Michele Giurgola, campione del mondo di apnea, una passione per il mare sin da piccolo che lo ha portato a diventare atleta della nazionale italiana. Tanti traguardi raggiunti durante la carriera, aggiudicandosi anche un titolo internazionale. Tra le passioni, la pesca subacqua che lo ha spinto ben oltre 60 metri, realizzando catture spettacolari. Al campionato mondiale a setto costante Bipinne 2015 è stato premiato come primo classificato, un titolo ambitissimo ma riservato a pochi eletti. Altrettanti riconoscimenti che lo hanno portato in giro per il mondo. E il campione mondiale salentino è approdato a Reggio Calabria per insegnare agli esperti del settore tecniche particolari di immersioni, uno stage intensivo di tre giorni. Per l'occasione Giurgola ha visitato la cittadina di Rosarno, approfittando anche dei legami familiari. Accolto con entusiasmo dalla giunta, l'atleta non esclude un ritorno. Davibo Valencia per l'AC News 24